Grazie alla vittoria in Coppa Italia la tanto auspicata spinta psicologica, naturalmente da mettere a frutto per ripartire il campionato. Il Rimini all'Adriatico Giovanni Cornacchia, dove i Bencazzurri non vincono dallo scorso 2 ottobre, 3-2 col Gubbio. In generale 4 punti altrettante sconfitte nelle ultime 6 gare, trend da invertire. Zeman chiede ai suoi ritmo e verticalità della manovra. All'inizio sembravano certezze, negli ultimi tempi un po' meno. Due le assenze di rilievo. Lo squalificato Mesic, il nazionale Tunio, il primo dovrebbe essere rimpiazzato da Di Pasquale, favorito su Pellacani. Per l'ex Foggia una sola presenza in Coppa sarebbe il debutto del campionato. A centrocampo rilancio di squizzato con Aloy Mezzala e forse Franchini, in tal caso la prima da titolare. In attacco, dopo la buonissima prova offerta giovedì in Coppa, prima chance dall'inizio per Vergani, che in campionato ha giocato appena 28 minuti. L'ex Inter non è al 100% della condizione. Verosimile in corso d'opera una staffetta con Tommasinio Cuppone. Esterni a supporto, Merola e Cangiano. Ecco dunque il probabile 11. Plizzari tre pali, in difesa Pierno, Brosco, Di Pasquale e Moruzzi, a centrocampo Aloy, Squizzato e Franchini. In attacco il tridente Merola, Vergani, Cangiano. Rimini rivitalizzato dalla cura troise. Il 44enne tecnico partenopeo lanciato in adazeman a Napoli, era un difensore stagione 2000-2001. Ha conferito compattezza, soprattutto solidità all'undici romagnolo, che di certo non eccelleva in fase difensiva. In totale infatti 23 reti subite, maglia nera del girone, ma attenzione, solo una nelle ultime quattro. Addirittura tre successi consecutivi senza incassare gol, Coppa Italia compresa. Fuori Tofanari per infortunio, Menisco. Tornano a disposizione Cortesi e Delcarro. Sistema di gioco 4-3-3, probabile 11. Tre pali, Simone Colombi. Altro giocatore lanciato in adazeman a Cagliari, stagione 2014-15. In difesa Lepri, Pietrangeli, Gigli e Semeraro. A centrocampo il play è Langella, ex Cerignola. Mezzali, Meghelaitis e Leoncini. Davanti occhio al virtuoso Lamesta, Mancino alla Chiricò. Dall'altra parte l'ex Cernigoi, di certo non un esterno per Antonomasia. Riferimento centrale il 28enne Morra, ex Entella e Provercelli. Il tecnico Emanuele Troise. Conosciamo le squadre di Zeman, sappiamo che al di là di quelli che sono i risultati ultimi, piuttosto che a partita in corso, tengono sempre la stessa fisionomia, quindi con ritmo, con una squadra molto verticale, con delle qualità. E quindi dovremo essere bravi a reggere questo confronto. Allo stesso tempo ci giocheremo le nostre carte, perché è una squadra che concede altrettanto delle opportunità agli avversari costantemente. Quindi è una partita che non finisce mai, quella di Zeman, perché al di là del risultato mantengono sempre lo stesso atteggiamento. E quindi anche i risultati che hanno ottenuto nelle ultime gare dicono questo. Sono nove i precedenti all'Adriatico, cinque vittorie, due KPO, un solo pareggio pirotecnico, 3-3. Ma in Coppa Italia, 5 settembre 2004, era la pescara dell'apprezzatissimo Gianni Simonelli. Nelle immagini le reti di Giacomo Di Cara, del centravanti romagnolo docente. Quindi doppio calaio e rimonta ospite, grazie ai gol di Muslimovic e Trotta. La stagione successiva, 26 ottobre 2005, il campionato di Serie B, i biancazzurri di Maurizio Sarri prevalgono 1-0. Decide dal dischetto Fabrizio Cammarata, ma nei 90 minuti grandi parate della portiera serbo, in forza al pescara Vlada Avramov. L'anno dopo, 9 dicembre 2006, clamoroso Tonfo, figuraccia dell'11, allora guidato da Aldo Amazzolorso, il Rimini di Acori. Portiere un giovanissimo, Samir Andanovic, si impone per 5-0, a segno Valiani, Vitiello, Emmanuel Cascione, Adrian Ricchiuti e Bischieri. L'ultimo precedente in campionato risale al 24 agosto 2009, Serie C, successo per 2-0 del pescara di Antonello Cucureddu. La sblocca di testa, Samuele Olivi, raddoppio dell'imberbe Marco Verratti, appena 16 anni, al primo gol di una luminosissima carriera.